Io non penso che ci sia molto da discutere sul risultato, non credo che ci sia molto da discutere sul risultato perché quello l'avete visto tutti e quindi essenzialmente fare un video basandosi sul risultato sarebbe da parte mia un po' banale. Quindi oltre il risultato, oltre tutto quello che ne abbiamo visto in campo, io volevo fare un pochino un video sulla prestazione basandomi anche su alcune osservazioni che ho dovuto fare guardando i giovani perché devo dire che i giovani in questo momento hanno dimostrato sicuramente abbastanza per essere lanciati i titolari in altre occasioni. Piccola premessa in tutto ciò, facciamo una piccola premessa che da questo punto di vista deve essere chiara e deve essere molto tranquilla. La Juventus arrivava in questa partita con una condizione mentale delicata, anche se ci sono stati parecchi cambi all'interno dell'undici iniziale, è normale che questa squadra, che viene comunque da una KO pesante, fosse delicata. Io mi aspettavo degli scombussolamenti e quegli scombussolamenti sono sempre quelli, nel senso cambiano i giocatori, cambiano le tattiche, cambiano le... però alla fine rimangono sempre i soliti problemi. Cosa c'è di negativo all'interno di questa squadra che può essere risolto? Innanzitutto un problema molto chiaro che è quello della fase difensiva che negli ultimi due partiti secondo me è andata un po' a farfalle. Contro il Napoli abbiamo visto una squadra che non ha saputo difendere, con attenzione. Contro il Monza abbiamo visto una squadra che a mio modestissimo avviso poteva fare molto meglio, ha rischiato... cioè secondo me non si è comportata totalmente bene. E la cosa che mi dispiace veramente tanto è che alcune volte noi facciamo del... non voglio nulla, non sto dicendo nulla e non ti sto semplicemente dicendo niente di particolare. Però secondo me noi facciamo degli errori stupidi, degli errori molto stupidi, che sono errori superficiali, dozzinali, che non hanno attinenza. Quindi sono degli errori abbastanza ridicoli, degli errori diciamo abbastanza dozzinali appunto, sempre quelli. Sempre errori di concentrazione, errori di tenuta mentale, insomma una serie di errori che comunque si ripetono sempre ogni volta, ogni gara, ogni gara. Sti errori sono di tenuta prettamente mentale, non di natura tattica. Cioè io non vedo grossi problemi a livello tattico, cioè non ti posso dire che la squadra gioca male, ok, però ha dei problemi... non ti posso dire i problemi di tipo tattico. Io ti dico, dal mio punto di vista, ci sono delle cose a livello psicologico che non vanno. E questo te lo dico già dall'inizio della stagione. Cioè la squadra vive dei periodi in cui gioca decentemente, in cui prova a segnare, a fare risultato, e alterna, li alterna, dei periodi in cui praticamente all'interno del campo è come se a un certo punto smettesse di giocare. Questo atteggiamento, che sta diventando anche un po' ripetitivo e fastidioso, ha cominciato un po' a rompere le scatole. Perché una persona che guarda la partita, e che quindi è un tifoso della Juventus, non può vedere una squadra che per 20 minuti gioca, poi 20 minuti non gioca, poi altri 20 minuti gioca un'altra volta, poi 20 minuti non gioca più. Questo a prescindere dal risultato, che comunque, ripeto, ci sono delle cose che sono buone e delle cose che sono meno buone. Di buono ci sono i giovani, questi ragazzi, questi giovanissimi lanciati dall'allenatore, che sono dei ragazzi di talento. Cioè quando io vedo fare cose a fagioli, quando vedo su Le, vedo gli altri che sono in campo, io ho visto questa partita una serie di prestazioni, cioè secondo me di assoluto livello, capite qual è il discorso. Nel senso che sono ragazzi giovanissimi, che però comunque, ragazzi, è vero che la partita è quella che era, però comunque diciamoci la verità, non è da tutti giocare con la maglia della Juve, con questa tranquilla... Cioè io non voglio, ti ripeto, non voglio assolutamente nulla, 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 nulla di particolare. Nel senso che non ti sto chiedendo, diciamo, di metterli titolari in ogni partita, però credo che ci siano delle partite in cui loro effettivamente possano avere... in cui loro possono avere un minutaggio, possono avere un minutaggio un pochino più rapido, un pochino più deno, un pochino più all'altezza della situazione, perché poi, ti ripeto, secondo me uno degli errori principali che abbiamo fatto nella scorsa partita è quello di non dare, ad esempio, spazio a dei ragazzi della formazione titolare, ma non perché tu quei titolari avresti battuto il Napoli, tu me devi capire, perché tanto, come l'hai rimesso, non lo battevi manco se c'è stava Ronaldo. Però è una questione di atteggiamento, capito? La sensazione che ho io è che con i ragazzi in campo, con i giovani in campo, ci sia un atteggiamento diverso, un atteggiamento più orientato alla voglia di fare. Invece ci sono tanti giocatori esperti, tanti giocatori che comunque giocano con la nostra squadra da tanti anni, che secondo me è come se avessero un po', sai, avessero questo atteggiamento un po' da tanto che me frega, non hanno bisogno. Invece i giovani ci mettono più voglia, ci mettono più, diciamo, organizzazione, ci mettono più, insomma, no, no, hanno bisogno di maggior minutaggio, secondo me. Per me è un no totale a metterli sempre in panchina. Poi, insomma, da Fagioli, da Miretti, se potrebbe parlare pure di Sule, che, ripeto, mi hanno fatto vedere delle belle prestazioni. Il problema, ripeto, di questa squadra non è quello, quell'altro, quell'altro. Il problema di questa squadra è la psicologia. Cioè, dal punto di vista psicologico, questa è una squadra, ripeto, che gioca bene dieci minuti, poi dieci minuti stacca, poi, ripeto, è una squadra incostante, che non riesce a dare una mentalità. Un po' perché in campo non ci sono giocatori all'altezza di questa, diciamo, mentalità da vincente. Alla fine, quali sono tutti questi senatori con gli attributi che noi abbiamo? Non ce li abbiamo, ce li abbiamo due o tre di cui stanno tutti fuori un po', perché manca proprio la cultura, secondo me, del sacrificio. Cioè, non c'è nessuno che si metta a lavorare per la squadra, tranne quando ci sono i ragazzi. Quando ci sono i ragazzi, oltre ai soliti due o tre che lavorano, praticamente lavorano anche loro. Però è troppo poco, capite qual è il discorso? È troppo poco per una squadra così. È troppo poco per permettersi di fare tutto a sta cacciata. Cioè, è troppo poco per quello che effettivamente noi siamo abituati a vedere. Punto. Poi si può dire quello che volete, il modo, la formazione, allenatore. Ma è una cosa che deve scattare pure all'interno della testa dei giocatori, perché è vero che l'allenatore ci deve mettere del suo. Perché l'allenatore deve metterci del suo. Perché l'allenatore che non ci mette del suo, essenzialmente, che è l'allenatore, è normale che deve metterci del suo. Però essenzialmente il problema principale di tutto ciò sta alla base del fatto che esiste un certo tipo di, diciamo, situazione, un certo tipo di mentalità, un certo tipo di risoluzione che va fatta anche su se stessi. Cioè, anche i giocatori devono cercare di capire a un certo punto che non sempre si ha l'opportunità di giocare in questa squadra. Quindi, avere l'opportunità anche di capire dove ti trovi, dove sei, quello che fai. Perché attualmente, sinceramente, ragazzi, a me non mi sembra che tanta gente l'abbia capito. Cioè, sinceramente, a me sembra che tante persone non l'abbiano compreso, che l'abbiano paradossalmente ignorato. E ci sono delle situazioni che certe volte mi fanno venire veramente in latta alle gira. Veramente mi fanno cadere braccia, cioè, mi fanno veramente venire l'angoscia. Perché, dico, ma c'è una angoscia, mi cade, mi sganciano le rotule. Cioè, veramente, è una cosa che non ha senso sotto sto punto di vista. Non c'è una visione, se non ho una visione, ma anche una mentalità proprio di lottare. Cioè, tu le vedi blandi, 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 sì. Ok, però è la Juve, capito? Cioè, cerca di farti vedere, cerca di farti capire, cerca di metterti in mostra da sto punto di vista. Cerca di farti notare, cerca, insomma, di fare un sacco di cose. Cerca di essere intelligente, cerca di essere comunque calzante. Questo chiede. Invece i ragazzi, i ragazzi ci riescono. I ragazzi riescono, riescono a farlo. Non so, sarà la, 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 non, non, cioè, sinceramente parlando, sarà la volontà di emergere. Sarà sta voglia di farsi guadagnare la prima squadra. Sarà questa capacità che loro hanno comunque di riuscire a trionfare anche in maniera differente rispetto agli altri. Quindi elevarsi, in un certo senso. Però vedo che i ragazzi ci mettono voglia, ci mettono determinazione, ci mettono, cioè, ci mettono, vedo che i ragazzi ci mettono Juve. Cioè, ci mettono proprio spirito Juve, ci mettono, invece gli altri, tante persone non se ne fregano. E dicono, ma tanto a me che me frega, tanto io sono della Juve, sono pagato, i soldi me li prendo lo stesso, arrivederci. Questo è una cosa che tanti tifosi non notano. Chi è un po' più allenato e chi vede tutte le partite, nota. È inutile che lo facci, è inutile che... No, 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 guarda, facciamo una cosa, facciamo... Allora, aspetta, no, 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 facciamo una cosa. Allora, no, 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 facciamo un discorso serio. E' inutile, è inutile, no, 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 proprio è inutile fare i nomi. No, 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 ribadisco, no ragazzi, è tanto, è inutile, no, 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 è inutile fare i nomi. Ok? Tanto che chi mi mette a fare... Siete, 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 tanto li sapete, a chi mi dice sapete i nomi, ai quali io mi riferisco, no? Come sapete chi lotta, sapete pure chi non lotta, è inutile dirlo chiaramente. Però, ripeto, questi giocatori che adesso mi stanno un po' sulle scatole, sinceramente, dovrebbero cominciare ad adeguarsi un pochino al contesto. Per il resto, ragazzi, io veramente non so più niente da... Non so che te devo dire, sinceramente, parlando. Io... Fatemi sapere, cioè, fatemi sapere un po' nei commenti.